Salve ragazzi e bentornati in questa nuova parte di Pocomplatino Scusatemi in ritardo se non ho portato questo episodio a nessuno Perché avevo da fare Perdonatemi tanto ma non solo per i compiti ma anche per il pallone Quindi oggi cosa fare in questo video Andremo avanti Comunque Machop purtroppo non avevo ne voglia di allenarlo Quindi non l'ho allenato perché non è impossibile pure allenarlo qui con l'erba Quindi mi devo adattare E vabbè non ci posso fare niente Comunque intanto Machop comunque Machop è sempre forte per me Di miei Pocom preferiti Fuggiamo perché non ce lo faccio più Demetra ci ha curato di mamma Certo quindi grazie Demetra E accompagneremo Demetra che ci ha dato Ok Dopo averla accompagnata Ci ritroveremo qui che qui Eh sì Mentre un po' sopra il 19 Però me ne vorrei andare grazie Oh ma hai cagato il cazzo Badiou Dai Me ne vorrei andare quindi Dai E vabbè Quindi raga non mi ricordo almeno a che parte Stiamo Però comunque mi sembra che questo sia il settimo episodio Sto vedendo che po' come ci sono Ah guarda Vedi un po' che posso ti fa O che ti posso fare Mi metto sbagliato E poi ragazzo dopo un attimo l'ho batto Perfetto raga l'ho ribattuto Mi ha dato un bel po' di problemi Ma anche avvelenato Due palle Che mai che fa Eh no no con te mi hai cagato Tu mi hai cagato il cazzo Warpool Un po' supera da tempo Però se non mi sbaglio Mi ricordo che qui c'erano degli allenatori Quindi vabbè Ci alleniamo così Ma Vabbè mi sembrava La prossima città Me li alleno Per un po' Per conto mio Perché oggi sicuramente Non andiamo ad affrontare la palestra Attenzione al Magikarp Temibile E sì La venerdì vi prometto che vi porto Dei nuovi episodi di Pokémon Platino Visto che da tanto tempo E non registro Quindi vai Goldin Colpo Karate Aiaiaiaiai Madonna mi ha fatto malissimo Ma è che un colpo Karate Ok Ok intanto Machop potrà salire da livello 19 quindi ottimo adesso mi posso allenare macho perché è un mito sismico un attacco efficace per i popoli di barba quindi è ottimo è anche un'ottima mossa la voglio provare splash mamma mia che te mi hai fatto malissimo non conosce nessuna mossa questo magica al livello 15 16 mi sembra imparava azione perché cagare fai schifo il ca gold in ok ma questo posso affrontare pure normale ma qui c'è sapete che ci voleva ci voleva stare io colpo karate ti permette bene mamma mia ragà quanti punti si è preso ma c'è per i forze ci facciamo a farlo arriva pure a livello 20 quindi o è bello social se poi non è vero mi sembra questa c'era tutti magica oddio non c'ho voglia ma donna che palla devo stare per tempo che palla no no per favore ditemi che non è vero voglio perdere i minuti prezzesi nella mia vita colpo karate dai 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 bravissimo machop madora che la machop è qualcosa di incredibile colpo karate è un attacco che lascerò proprio nel posto di colpo karate mettere breccio che è ancora più forte ah mi dicono che mi fatto male magica che cazzo vai magica no ragà perfetto mamma mia machop signorini mi sorprende sempre di più sto pokemon deve rimanere nel team non mi toglie proprio perchè non lo voglio oh colpo basso vai vai sto sono le 5 06 perchè da un po' io devo chiamare pure mia madre quindi vai è lo 20 grande grazie machop da tua ti adora quindi dobbiamo fare un dobbiamo fare un stato solo per lui allora vediamo pokemon adesso direi di ritornare con primplop quindi adesso sono tutti i livello 20 e un po' sto cazzone che adesso vi faccio con la raggia e muore 100 fondi aspetta qui c'è una pokemon infatti la superguardia è da vendere oh my god scusate ok andiamo speriamo un po' questa cittadina posso evitare i denti però non mi interessa vai 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 ok nei sotterrani bravissimo ok dove avercelo dato vediamo ma l'esplorio kit me l'hai dato vero ecco allora no capito qui ancora non c'è perché dobbiamo fare un'altra cosa molto importante qui questa questa qui è una superpozione mamma mia bicicletta pista ciclabile io qui ok non c'è niente e parlate con questo signore che vi darà il condividi esperienza bene ho trovato il condividi esperienza questo ci sarebbe molto importante per prendere ancora più esperienze in più condividere le esperienze anche con gli altri solo che però non penso servirà molto perché lo userò soltanto con il mio pokemon allora vediamo bosco dei popoli ok vabbè no questi non davano a niente però lo ricordo vai benissimo adesso andiamo qui devo decatturare eh che pare devo esplorare ancora questo è stato sì sì diventare un grande è semplice vedere ascoltami bene scusate bene ragazzi se sentite mia madre non fateci caso perdonatemi ok vai eh chi era? che fai? caciuto il luci è ucciso nel bagno come? ok raga scusate per lo strillo vai vai sfiggiamo il ninja boy dai bollaraggio altro colpo vai altro zubat bollaraggio bene ma più che bene altro zubat bollaraggio vai aspetta che qua c'è una pokeball scingli ah questo dava un botto di punti raga questo mi fa salire a livello 21 vai no perché non sei morto pezzo di merda beccata dai livello 21 grandi ah megabull ok eh no bene medita peccata no odio lo suo individuo eh vai allora l'ha visto che tra un po' c'è un montanaro voglio mettere in campo ma c'è penso che poverò ma c'è il padoso può affrontare magica che io allenerò le allena poi molto tra un po' quando andiamo un po' più avanti quando ci sarà troppo la pista ciclabile mettiamo ma c'è poi mi do questo ma c'è per dire ve lo so è più un altro più un biduf me lo catturo perchè non si può andare avanti così colpo karate 239 punti onyx colpo karate no colpo karate no usare come si chiama cacchio colpo basso vabbè sbagliato non fa niente è stato morto ah 315 punti e grazie e poi brimplop vai 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 sti pizzoni bollaraggio vai 104 punti o tutto no un cambio pokemon bollaraggio vai bene brutto colpo ottimo 210 punti ripropana belva print prendiamo stai metti 12 circolazione provocazione mi catturo un badio dai se trovo un video magari che culo l'ho chiamato wow paura di far di male beccata non è tanto potenza vero perfetto quello che volevo adesso cambiamo pokemon mandiamo matchup e ma lui di volotto non posso fargli niente aspetta ti faccio spaccarocci che non ha una grande potenza di attacco ok 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 e a vita rossa grazie matchup livello 6 1 2 3 no raga ma anche matchup livello 6 mi aiuta vedi lui è fratello di matchup che voleva il video vi ho detto che adoro matchup vedi io ti amo io ti amo allora adesso prendiamo non te bidouffe ovviamente perché fai schifo signora spaccaroccia sia bidouffe subito e ci torniamo subito matchup dobbiamo imparare spaccaroccia no si 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 faremo solo che dimentichi io ce lo scudo tanto non mi interessa sto poco non mi interessa ok vai torno un attimo indietro e mi vado a curare e togliere quello oh camilla e quindi la mn01 che continua taglio grazie sei proprio capitato a foggiuolo squadra di pokemon ok grande aspetta ok sposta pokemon squadra adesso possiamo andare più veloce no forse taglio capace questo bidouffe è uscito anzi azione l'ho tolto però tanto non farò parte del team sono le 17 18 non mi interessa che dire andare a finire un attimo di esplorare e poi registrare un'altra parte dove affronto la palestra con un po' di allenamento prima di tutto che l'allenamento mi serve ballaraggio sbaglio voloso ora è beccata però vabbè l'età poca ansia per la sua al 22 ti tolgo primplop le spazio anche gli altri andiamo prendiamo quello strumento la combo la raggio mentre trovo prendo quella spacrocio quello strumento front walk e pokemon che tanto monta un po' solo a livello 22 primplop no anticello non male non male ottimo il polvo stella ottimo non male un altro c'era tutto che mi ha dato un po' di punti vai ballaraggio vai 156 punti grazie e ne approfitto anche per allenarmi matchup quindi vai anzi non c'è bisogno di allenamento perché serve ponita però vabbè ce la posso fare anche da solo perché è un movimento sismico efficace da solo e infatti lo sapevo sotto solo un attacco da lotta non so perché eh però no matchup se lo sconfigevi matchup dai raga ma chi è matchup raga ma chi è matchup raga polvo energia grazie ma sono pieno di strumenti avrei abbandonato sto posto aspetta no guarda ce l'ha parlato te ce l'ha parlato prese ti ho presi allora un attimo solo che faccio stare i matchup di livello ben bene mi sembra che al 26 25 si evolveva in un matchup non vorrei sbagliare mi sembra non me lo ricordo colpo basso a posto il matchup è salito anche a livello 21 grandi bene adesso voglio mettere ponita davanti che mancano anche 20 livelli prima che si evolve quindi tanto per le allenaro pure seriamente i pokemon tra un po' eh taglio non la possiamo usare ah devo esplorare questa quest'anno devo comprare i vitalerb eh due due basta raga le vitalerb sono derivate ok raga ho preso le radice energia che sono le critiche ne ho speso un bel po' di soldi ma ne valse la pena almeno ah che dire ho fatto già la spesa ok ecco me ecco me ne do una scusata mia madre mi rompe questa puttana di merda però intendo di dire questa tu sei la prima puttana di merda il mio ponita il mio cavallo è più forte il mio cavallo spirit di fuoco è fortissimo quindi cazzova lesbica vai con ruota fuoco dai ma 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 dai è un po' più veloce non so tu sei un po' da perdere ok oh 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 raga ti manca la palestra vai no direi di fare solo le allenatori che sono passati 19 minuti che signor livello 21 bene muoviti ok ragazzi noi ci vediamo nella prossima parte di pokemon platino dove andremo a affrontare l'ultima allenatrice la capopalestra e che dire noi ci vediamo nella prossima parte ciao